Corinzi, capitolo 1, i versi da 20 a 22, come lo trovate, alzatevi in piedi, seconda Corinzi 1, da 20 fino a 22. A Dio vada la gloria. Dello Spirito Santo nei nostri cuori. Amen. Chiudiamo gli occhi. Signore, ti vogliamo ringraziare per questo passo della tua parola che ci hai concesso di leggere. Lo vogliamo meditare, o Signore, guidati dal tuo spirito. E ti preghiamo che tu parli ai nostri cuori. Te lo chiediamo in Gesù, che benedetti in eterno. Amen. Gloria al Signore. State comodi, cari. Gloria a Dio. Gloria al Signore. E questa epistola, la seconda epistola ai Corinzi, è un'epistola personale di Paolo, dove viene fuori tutto l'uomo, le sue sofferenze, le sue lotte, anche gli scoraggiamenti, ma le vittorie che sono state seguenti agli scoraggiamenti. Noi delle volte vediamo in Paolo una sorta di supereroe, forte, invincibile, e invece era un uomo. Parafrasando Giacomo, potremmo dire, era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, come lo era Elia. E quindi anche lui ha conosciuto le difficoltà, è stato anche incompreso dai Corinzi, ma non solo. Però ha trovato sempre la sua forza nel Signore e in ogni circostanza della vita ha confidato nel Signore. E in questo passo, indirizzato ai Corinzi, nei quali lui introduce un lungo discorso che farà riguardo a come questa chiesa aveva prima preso con dispiacere e anche con scoraggiamento la sua prima epistola, per poi metterla invece in atto e trovare vittoria grazie al seguire i consigli di Paolo, in questa epistola Paolo dice all'inizio una cosa molto bella, e cioè, verso 20, che le promesse di Dio hanno in loro, sì, in Lui. Ora, nella parola del Signore ci sono tante promesse. E Dio si è lodato per le promesse del Signore. Perché sono quelle che ci danno forza quando ci troviamo scoraggiati. E sono quelle a cui ricorriamo quando i problemi arrivano. Ecco, quello che Paolo ci dice, quello che lo Spirito Santo, per mezzo di Paolo, ci dice, è che ogni promessa di Dio ha il suo sì in Lui. Cioè, quello che Dio promette è certo. E non ci devono essere dubbi riguardo alla fedeltà di Dio. Perché Dio non è un uomo e non può mentire. Dio non può rinnegare se stesso, dirà altrove. I doni, le promesse che Dio fa sono irrevocabili. E allora noi dobbiamo avere il coraggio e la fede di pronunciare l'amen alla gloria di Dio. Tu l'hai promesso, Signore, io ci credo. Ci credo perché nel nome di Gesù ho visto adempiute alcune delle promesse dell'Antico Testamento, quasi tutte, e sono sicuro che in Gesù tu adempirai tutte le altre promesse che riguardano la mia vita e che riguardano la tua Chiesa. E noi siamo, per grazia, lo sappiamo bene, lo diciamo spesso, figli di Dio e parte della Chiesa del Signore. E allora, fratelli, non dubitiamo, sorelle, non ci lasciamo prendere dallo sconforto e non crediamo alle menzogne del maligno e del suo esercito infernale. Perché le promesse di Dio sono veritiere. E noi dobbiamo avere fede in quelle promesse. Non date ascolto a quelli che, vivendo nella tiepidezza e nella freddezza, anziché aggrapparsi al Signore e alle sue promesse, si arrabbattano nel tentativo di poter raggiungere i loro scopi, usando anche delle volte dei mezzi, chiamiamolo così, poco nobili. Noi non scadiamo né nel compromesso, né nelle azioni malvagie che sono in questo mondo. Noi confidiamo nel Signore e dobbiamo avere fiducia che quello che Dio ci promette lo manterrà. La sua promessa, che Egli si prenderà cura di noi, e che nessun aspetto della nostra vita sfugge ai Suoi occhi, è una promessa veritiera. In Lui trova l'adempimento e noi dobbiamo dire il nostro Amen alla gloria di Gesù Cristo. Non aver paura, sorella, fratello, quello che sia, qualunque sia la situazione che vivi, tu sei sotto l'occhio vigile del Signore. Anzi, più che essere sotto l'occhio vigile del Signore, tu sei paragonato, paragonata, alla pupilla dell'occhio suo. Perché sei prezioso, ma non perché sei qualcosa di particolare o di speciale rispetto agli altri, ma perché sei opera delle sue mani. È Lui che ti ha fatto, è Lui che ha desiderato che tu fossi su questa terra, perché i figli sono un dono che viene da parte del Signore. E io e te non siamo nati per caso. Siamo nati perché Dio l'ha permesso, Dio lo ha voluto, e se siamo qui Egli ha uno scopo glorioso per la nostra vita. E se è anche vero che delle volte dobbiamo attraversare le acque, noi abbiamo una promessa da parte di Dio, che nelle acque non saremo sommersi. E noi diciamo l'amen alla gloria del Signore. È vero che dobbiamo attraversare il fuoco, come i tre amici di Daniele, ma anche qui abbiamo una promessa, nel fuoco non saremo bruciati. E noi diciamo l'amen alla gloria del Signore. È vero che dobbiamo attraversare anche le malattie delle volte, le più disperate, ma nella malattia noi abbiamo una certezza. Dio è il guaritore. Egli è potente a liberarci dalla malattia. E noi diciamo l'amen alla gloria di Dio. E se Egli non ci dovesse liberare, Egli ci darà la forza di affrontare e di continuare a servire il Signore, anche nella malattia. E anche in questo noi diciamo l'amen alla gloria di Dio. Noi abbiamo fiducia del Signore. Noi non siamo come i religiosi di questo mondo, senza voler offendere o giudicare nessuno. Dio mi guardi da questo. Ma noi abbiamo abbracciato una fede, anzi abbiamo abbracciato qualcuno, Gesù Cristo, il figlio di Dio. E noi crediamo in quello che è scritto nella parola del Signore. Le promesse di Dio, che sono qualcosa di meraviglioso e sono qualcosa a cui ci vogliamo aggrappare nella nostra vita. Promesse quindi innanzitutto, che Dio ha fatto a te, personalmente, e che Dio vuole mantenere nella tua vita. Promesse non soltanto che riguardano il bene presente, ma che riguardano anche il bene futuro. Delle volte in questo mondo si pensa, o meglio mi sono sentito dire, potessi avere un angolino nel cielo. A me non basta un angolino, perché il Signore mi ha promesso un'altra cosa. Mi ha promesso che mi va a preparare una stanza. Perché dovrei cercare un angolino? Il vostro cuore non si è turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me, perché io vado a prepararvi un luogo. E quando quel luogo sarà pronto, io verrò e vi accoglierò presso di me. Fratelli, su questa terra abbiamo l'aiuto del Signore, ma cosa ancora più gloriosa? Nel cielo ci sarà una stanza, che non sarà in affitto, sarà nostra, perché il Signore ce la darà. Una stanza dove staremo alla presenza di Dio. E poi ci sarà una città, la Gerusalemme Celeste, che abiteremo, la nostra città. La città dove vivremo con tutti i santi per l'eternità. Quale gioia sarà rincontrarci da nel cielo? Senza dover più guardare l'orologio, senza dover più usare il condizionatore o i riscaldamenti, saremo nella presenza di Dio. E non ci sarà più il buio, sarà sempre giorno, perché Dio sarà la luce di quella città. Allora, fratelli, proprio perché abbiamo queste promesse che il Signore ci ha fatto, dice lo scrittore agli ebrei, rimaniamo fermi nella nostra fede, non veniamo meno e continuiamo a fortificarci nel Signore, perché, verso 21, colui che ci fortifica è Dio, è il Signore. È vero che noi delle volte veniamo meno nelle forze, perché dobbiamo negarlo? Ci scoraggiamo, anche noi. Anche Paolo si scoraggiò, l'autore di questa epistola, lo dirà più avanti, qualche capitolo più avanti, quando parlerà della scheggia di Satana, che gli era stata conficcata nella casa. E ha pregato tre volte, e lo sapete la storia, il Signore gli ha detto, non se ne parla proprio. E Paolo ha detto, Signore, come vuoi tu? A me basta che tu mi aiuti a continuare a servirti. E il Signore gli ha detto, non ti devi preoccupare, perché la mia grazia sarà con te, e con la mia grazia tu potrai fare ogni cosa, anzi, ti rivelo un mistero. Questa scheggia nella carne ti permetterà di essere ancora più forte, perché la potenza di Dio si manifesta perfetta nella nostra debolezza. E Dio sia lodato quando ci sentiamo deboli. Paolo lo dice, quando sono debole, allora sono forte. E come dice il nostro canto, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E colui che ci fortifica è il Signore. Non è una forza che possiamo ottenere in palestra, grazie a Dio per le palestre, e per chi può fare allenamento. Dio sia lodato anche per questo, perché l'esercizio fisico è utile, ha poca cosa, ma è utile. Ma questa forza di cui parla la parola di Dio non si ottiene facendo i pesi, non si ottiene facendo i... non so come si chiamano, non si ottiene in questo modo. È una forza che viene da parte del Signore. Ed è una forza interiore che ci dà la vittoria e che ci aiuta ad andare avanti. Voi vedrete tanti uomini muscolosi, pieni di vigore, dinanzi ai quali io sembro uno stecchino, ma che magari nei momenti difficili della vita si lasciano andare, si lasciano prendere dallo sconforto. e fratelli, sorelle, noi non dobbiamo lasciarci prendere da questo, ma quando lo sconforto arriva andiamo ai piedi del Signore, fortifichiamoci nel Signore. Spendiamo del tempo davanti a Dio. Signore, ora mi sento debole, Tu lo vedi, è inutile che mi nego. Ora ti prego nel nome di Gesù ridammi forza, ridammi vigore, ridammi fervore, dammi di nuovo zelo, dammi quell'energia che mi ha caratterizzato finora e mi ha permesso di andare avanti. Signore, io la chiedo a te, perché so che la forza che tu dai è una forza che non viene meno perché è una forza che viene dall'alto. Lui è quello che ci fortifica e, attenzione, lui è anche quello che ci unge, perché noi abbiamo bisogno, e l'abbiamo detto altre volte, dell'unzione di Dio. Ma chi te la dà quest'unzione? Oggi va molto di moda, soprattutto nel neopentecostalismo, la mania di credere che l'unzione possa venire da qualche servitore particolare. Se voi vi fate un giro su internet vedrete che ci sono tutti questi nomi particolari, apostolo tal dei tali, evangelisti, e voi vedete che le persone corrono per essere toccate, un po' come avviene in una certa religione che chi vi parla ha abbandonato. Ma la nostra unzione non viene dall'uomo, la nostra unzione viene da Dio e noi quell'unzione vogliamo avere. Perché l'unzione dell'uomo dura poco, ma l'unzione che viene da Dio è un'unzione che dura per sempre. E quell'unzione che ci viene promessa da parte del Signore è un'unzione che ci viene data anche nella sua pienezza. Perché è vero che noi oggi abbiamo la caparra dello Spirito, ma se abbiamo la caparra vuol dire che abbiamo solo ricevuto un anticipo, o mi sbaglio? Perché ci deve essere dato il resto. E io spero che stasera quella caparra possa diventare pienezza per tutti quanti noi e che stasera il resto dell'unzione di Dio possa essere riversata sulla nostra vita. Quando il sacerdote doveva purificare il peccatore doveva usare il sangue con una mistura d'olio. Aveva con sé una boccetta d'olio mi pare intorno al litro che gli serviva per ungere le dita che prima erano state intinte nel sangue e poi passarle sul peccatore affinché fosse purificato. Ne bastava poco di quell'olio, molto poco. E poi rimaneva quasi tutta la boccetta piena. Sapete cosa faceva il sommo sacerdote secondo la legge? Prendeva la boccetta e riversava tutto il contenuto sul capo del peccatore affinché neanche una goccia si perdesse. E io spero che stasera quanti siamo stati purificati nel sangue di Gesù e abbiamo ricevuto quella caparra, quel poco d'olio possiamo ricevere la pienezza. E vogliamo dire Signore riversa tutto l'olio sulla mia vita affinché il mio capo affinché la mia coppa possa traboccare e l'anima mia ti possa rallegrare in te. Il Signore è quello quindi che ci fa le promesse che dice il sì egli è colui che ci fortifica egli è colui che ci unge egli è colui che ci ha dato la caparra dello spirito ed è bello il fatto che la caparra o meglio il termine originale in greco che viene tradotto con caparra riguardava sia la somma che veniva data in vista del pagamento totale del pagamento a saldo quando qualcuno faceva un acquisto ma questo termine veniva usato anche per indicare l'anello di fidanzamento che in fin dei conti era una promessa in vista del matrimonio e Paolo un po' più avanti mi pare che al capitolo 8 sinceramente ora non mi ricordo dice che egli ci ha no al capitolo 11 al verso 2 se non ricordo male della seconda Corinzi egli dice sì infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio perché io vi ho fidanzati ad un unico sposo oggi noi siamo i fidanzati del Signore perché abbiamo la caparra abbiamo l'anello di fidanzamento sapete che in cielo stanno preparando il banchetto perché a breve ci saranno le nozze e non saremo più i fidanzati saremo la sposa di Cristo e quanto sarà bello partecipare a quel banchetto ed essere lì insieme ai santi di ogni tempo e allora grazie a Dio perché ci dà la caparra in vista della pienezza ma grazie a Dio perché ci ha legati a Lui per mezzo di questo anello di finanzamento nell'attesa del giorno in cui saranno celebrate le nozze dell'agnello e lì saremo con tutti i santi di ogni tempo e staremo col Signore per l'eternità ed è bello il fatto che questo anello ci richiama anche alla mente il sigillo di cui parla sempre nel verso 22 che Dio ha posto sulla nostra vita ora noi apparteniamo a Cristo i re usavano il sigillo per segnare le loro lettere affinché si capisse che quella lettera apparteneva a loro ora io e te siamo stati sigillati dal Signore col suo anello reale egli ha messo il suo timbro sulla nostra vita e ora noi non apparteniamo più a noi stessi non apparteniamo più al mondo noi apparteniamo gloria a Dio al re dei re e al Signore dei signori non siamo più non siamo più sudditi del principe di questo mondo siamo sudditi del re dei re e proprio perché la tua vita non appartiene più a te tu devi consacrare il tempo che ti rimane nell'amare nell'odare nel servire nell'ubbidire e nel fare la volontà di Dio tu non puoi fare più quello che vuoi devi fare quello che il Signore ti chiede perché ora sei suo ti ha comprato e non ti ha comprato con quattro spiccioli non è andato agli sconti non ha aspettato che arrivassero i saldi di fine stagione non ha detto vediamo quando c'è la svendita quando c'è la liquidazione vado e compro Vito Vincenzo o Luana no no lui ci ha comprati col prezioso sangue di Gesù Cristo non ha barato a spese non ha aspettato tempo subito ha dato la cosa più preziosa che aveva affinché io e te potessimo essere salvati e se Dio ci ha talmente apprezzati e ci ha dato questo grande valore fratelli e sorelle che valore vogliamo dare al Signore vogliamo fare come Giuda che si accontentò di valutarlo 30 denari vogliamo fare come tanti che lo svendono magari come Esau in cambio di un piatto di fagioli o di lenticchio di quello che volete no il nostro Signore è troppo prezioso non c'è oro non c'è argento che valga la presenza di Dio nella nostra vita e se Lui ci ha amati e ci ha acquistati noi vogliamo amarlo e servirlo con tutto il cuore succeda quel che succede perché i tempi che sono davanti a noi non sono tempi semplici forse ci potranno essere delle persecuzioni spero di no ma non importa quello che succederà noi vogliamo rimanere fedeli al Signore perché Lui come abbiamo letto ci ha acquistati ci ha sigillati ci ha dato la caparra dello Spirito e Lui è quello che ci fortifica e ancora di più Egli è colui che ci ha fatto delle promesse e nelle promesse di Dio noi abbiamo la certezza del loro adempimento ora il nostro la nostra vita e concludo è caratterizzata da situazioni particolari delle volte che ci fanno dubitare della fedeltà di Dio non so se è mai successo a me sì più di una volta sentire la voce del nemico che viene e dice ma se Dio ti ama veramente e se veramente sono veritieri le promesse che Dio fa perché sta succedendo questo perché Dio non ti risponde perché Dio non è già intervenuto non è vero che Lui è l'onipotente allora se non interviene forse non è fedele o forse non è potente a farlo o forse tu non sei importante ai suoi occhi è il nemico l'avversario delle anime nostre ma proprio in quei momenti quando l'avversario viene per poterci suggerire questo noi dobbiamo avere la fermezza di credere nell'amore e nella fedeltà di Dio e vogliamo dire quello che Gesù disse vai via da me Satana perché tu mi sei di scambolo vai via da me Satana perché io non voglio ascoltare le tue manzogne io voglio credere alla verità di Dio è vero forse il Signore sta ritardando forse stai vedendo altri che stanno ricevendo quello che tu desideri non ti preoccupare al suo tempo Dio lo farà anche per te perché le sue promesse hanno il loro sì e il loro amen in colui che ci ha fatto le promesse e noi crediamo al Signore e ci affidiamo al Signore e continuiamo a sperare nel Signore spera nel Signore il tuo cuore si rinfranchi si spera nel Signore chiudiamo gli occhi chiudiamo il nostro capo adoriamo il Signore e questa sera vogliamo fare nostra qualche grazie a tutti